Ciao Rolando, ciao Stefano Sgrave, seconda fila per True Wise S, Tam Tam, Titanium Tor, Trappola Mortale e Teseo Scaffa è rimasto molto lontano di Galoppo, Trappola Mortale, c'è l'errore anche per Tebbe Laser, allo stacco si porta a condurre Tang superando Tominima Nero Trebbe all'esterno, punti in avanti Teseo di Sgrave, quindi dalla seconda fila molto bene Tam Tam in terza posizione alla corda davanti al 5 di Tibersco, insiste deciso Teseo di Sgrave, va a chiedere strada a Tang e la ottiene dopo un quarto di avvio veloce in 29.2 Nuovo leader Teseo di Sgrave su Tang all'esterno, punti in avanti Teseo Scaffa, la cui scia viene presa da Tony Manero Trebbe che anticipa di precisione Tibersco, al cui interno c'è Tam Tam, poi ancora Titanium Tor con all'interno Tank e GPD, poi Tito Spritz, quindi True Wise S che lascia in coda Tebbe Laser rimessa Teseo di Sgrave sempre leader quando mancano 650 metri al traguardo, lungo la corda c'è Tang a precedere Tam Tam all'esterno Ancora Teseo Scaffa con in scia Tony Manero Trebbe, Titanium Tor e True Wise S che accenna la terza ruota, ma non cambiano le posizioni al paletto dei 1200 metri raggiunto in 1.30.5 Con Teseo di Sgrave battistrada all'esterno c'è sempre Teseo Scaffa lungo la corda Tang, poi ancora Tony Manero Trebbe, sbaglia Titanium Tor, prova ad avanzare a centropista True Wise S che sta finendo molto forte a largo Nel frattempo c'è Tang che va su Teseo di Sgrave e passa, ma deve guardarsi da True Wise S, al cui interno c'è Tony Manero Trebbe, gran finish di True Wise S che va su Tang I due lottano, ma sul palo è True Wise S che batte Tang, mentre Tony Manero Trebbe ha ragione di Teseo di Sgrave per il terzo posto Davvero eccellente la progressione finale del favorito True Wise S con Ale Gocciadoro per andare ad acciuffare a fil di palo il numero 3 di Tang Con il 2 di Tony Manero Trebbe al terzo posto, 8-3-2 l'arrivo naturalmente ufficioso dell'ottava e ultima corsa di oggi all'ipodromo delle Capanelle 2-1-2 sul mio cronometro per media di 1-15-7 per il vincitore True Wise S con Ale Gocciadoro Lotto al primo posto sul tabellone davanti al 3 di Tang con Tony Manero Trebbe numero 2 al terzo Questo l'arrivo naturalmente ufficioso dell'ottava e ultima corsa Appuntamento qui alle Capanelle con il Trotto per venerdì prossimo 18 dicembre Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!